Benvenuti ad una nuova puntata della mia rubrica intitolata Moto come un pesce. Come dico sempre ogni giorno, la mia rubrica è intitolata così per associazioni di idee a quella fiction spagnola su canale 5. Ora, musica! Non sei più accanto a me, ma io non ti scordo. Deo, sento ancora il dolce viso tuo tra le mie mani. Quanto amore ancora c'è, questa stanza cerca te. Quanto tempo che mi importa ormai, ti aspetterò. Tu, dolce Giorgettina mia, tornerai qui da me. Tornerai qui aspetterò. Non sei più accanto a me. Ma io non ti scorderò. Quanto tempo che mi importa ormai, ti aspetterò. Solo, solo in questa stanza che è vuota senza te. E in questo silenzio senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorno, io ti aspetterò. Tu, dolce Giorgettina mia, tornerai qui da me. Tornerai qui da me. Tornerai, ti aspetterò. Grazie. Tornerai, ti aspetterò. Grazie. Grazie. Grazie.